sì nono papà 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 2 c'è uno ammattato l'altro non dirò di fare ci tutti sono fai una terra non lo ammazza quello sti grazie battle royale gas diretto verso di voi è meglio al lavoro uno sopra un amico in discesa all'area operativa non te lascio non te lascio muoio ingato ci sono due si questo va molto ingato ma ammazzata attraverso il muro ci sono allora so che la pompa lo ammazzate non c'ho più cazzo oh uno uno non ho 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 Stano, ma non ci hanno fatto la cazzottina, ma non, non, non c'è più Passura Atatto Sono 2 in piede In movimento Sono 2 Blusca Eh, porco zio Senni sonnati? No, no, non sei sonnati manco per cazz, io sto senza curazzo per andare Non mi fa vedere lei Merdi e per te è finito Tocca a te soldi Tutto a destra Uff, occupati di quello strato Cosa trovo via Stai tornando in prima linea, te lo sei guadagnato e compagno ritorna in azione attendi nel superstore dove sei fantom? tutto il superstore oh non ti ho ammazzato, che stai vivendo? c'è un'arma, c'è un cazzo questo hai preso? si non c'è sta la porta entro l'autobus attenzione, un team nemico mi s*****ando la caccia in movimento no, no, stanno da qua stanno da qua in movimento stanno qua sotto eh 4 minuti arriva un lancio d'equipaggiamento lancia una stordante no, non ci stanno 2 minuti lancia una stordante colpito no straccato straccato bella fantom bella cosa c'è merda erano tre erano tre armonizzati erano tre erano tre che cazzo in non so io che uuuu spara spara ma sta qui ma sta sopra c'è la sua la sua il movimento sta qua sopra vedo il movimento vedo il movimento via 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 lo vogliamo prendere qua c'è un cecchino se serve qui c'è un fucile di precisione lo vogliamo prendere lo sciagallo che sta dentro al palazzo tostamo prima non mi ha nata roba la pacca roba gas sparno un uomo non morirai oggi morto non è un po' come un uomo tutte le corasse quello che fa spara qualcun altro a sinistra perchè non bello di mano a parte non mi piace eh ho preso inizieto un bel gaio eh ma c'è solo un cecchino ma c'è solo un cecchino preso io cecchino la power lì ma c'è solo un cecchino c'è solo un cecchino ho preso c'è più nessuno da sopra c'è più nessuno da sopra c'è più nessuno da sopra che c'è più nessuno da sopra se affaccia muore scello che liscio lo vedo è solo a destra, andato a terra ok ma la taura adesso no si fuccia no? dai apriendo dopo le wick eh... troppo tardi stiamo viva vabbiamo sono due si sono due sono sotto però non so sopra ma sono sotto a due giorni ho so senti qua dentro io ma sta a fare a me un cecchino eh che stai basco? no cazzo sta attenzione, rientro forzato sta a salire sto sulle altre scale no no è beh apposta vai porca roglia mi piace qua sono da terra bello bello puoi scattare la roba che c'è qua uo 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 mp o uo uo ue uo su uo 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 Oh, guarda quanto piatta! Ti faccio a giro a destra, ti faccio a far giro a destra Eccoli Oh, c'è il terzo in mezzo alla tratta, lo matto Ti faccio a far giro a dietro Che stai a basco? Carcato A terra Attacco a grappolo Dentro, dentro, dentro Dentro, dentro Devo parsare Ok Ma ti ho badato la kill? A terra, ti ho eliminato Eh, ma questi che hanno fatto il gaffo, lo stanno qua Eh, ma questi che hanno fatto il gaffo, lo stanno qua In arrivo, impostamento della zona sicura C'è nessuno sulla torre C'è nessuno sulla torre Eh, però stanno qua 25 Mi pinga uno Pure me Eh, ma uno... Sta sopra, eh Mi pinga uno qua davanti Tu? Due Due? Sì Mi pinga uno circa metri sopra C'è uno pure di qua 30 metri di qua Di qua che significa? Eh, in quella direzione In movimento! E' altro equipaggiamento tattico No, no, chi cazzo ha sparato? Io, io Io C'è uno separatore c'è C'è uno separatore c'è Ragazzi, fanno un culà, eh Nooo Dove nessuno qua? One shot Eh, che dio che dico Che dio che dico Che dio che dio Che dio che dico Ma scarabasco ma, do adesso Ma che cado, ma che cado Mi sei impallato non l'ho fatto fisicamente in tempo c'è la corona che ci si fa via 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 un bel uazzo c'è la corazza cazzo si si la scuola che fa in modo che schioppia qui, come cazzo fa? ora resta al team eeeh vabbè che tanto se resta comunque vengono a giocare la pistola eh veramente una cosa vediamo però quell'RPG che hanno tirato gli stanno sparate tutto, gli provo a tirare dentro un C4 ok ok senti senti che scardo bene preciso che venghi in un un cazzo come cazzo tattione medica, qui adesso io dai no no mi si spenta il televisorio porco m***o mi si spenta il televisorio eccomi 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 non ho capito eh ho capito raga e stannò mi ha bestemmiato perchè mi stava a cascarbicchiere no beh perche vai 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 ma sullo d'auto caccele si pieghe ok di bambini oh lo sparano da là eh viaggio via via copritele raga copritele non state in mezzo uno uno no 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 vabbè vabbè cacca due, cacca me no cacca uno ammattia quelle oltre sei ilusico! no dico dico! vado a morire un gatto! dai mancano 8 ma dove vado Blasco? sono mezzata la strada 8 no no vai verso il muro mettete sotto al muro si stanno dentro la casa considera io devo correre prima di loro però eccolo vetro sta al primo piano eh corri dall'altra parte e metti dietro al muro vai bella qui sei in safe eh mi attaccano! c'è terra vedi qua, vedi qua forza vuoi bravo voglio tre persone quattro? tre persone tre team uno, due, uno uno, uno, due dai mo si ammazzano tra di loro bello sinistra eh, due contro uno io ecco vediamo che entrano qui eh gas in movimento nuova zona sicura e infliguata non c'è la maschera eh? entro da qui eh gas in avvicinamento che cazzo stanno lo cazzo stanno c'è il furo sshh tussiscono vai una terra oh no io oh no io non lo prende non lo ammazzano quello sti cazzi preparatevi fatto schifo regaio bella bella che si fa